Hanno provato a portare via due vasi da un rivenditore di terracotta in via Xiboli, ma non ci sono riusciti per l'arrivo di una volante della polizia in seguito ad una segnalazione arrivata al 113 di tentato furto. Sul posto degli operatori si sono accorti della presenza di due giovani che avevano poco prima tentato di rubare i vasi in terracotta. I due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà e i due vasi sono stati posti sotto sequestro.